C'è un gran golo, c'è un buon tecnico quasi al centrocampo. Non riescono a contenere. Attenzione Gori, spingono le spalle. Regarde, è spulso. Gori! Applaudiamo. Attenzione, è il 90 palo. Palo, palo di giuro, pazzesco. Ancora una segnatura. Abbiamo, stiamo unendo. Finalmente c'è il mondo in Italia. Finalmente c'è questo sacchio di mondo in Italia. Quattro, amo. Quattro, amo. Quattro, amo. Voi in maniera. No! 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 la seconda finale 4 a 2 4 a 2 4 a 2 5 a 2